Ciao a tutti amici di 3rani.it, oggi vi parlo della Topo Freepik Rundentur 4, una scarpa da 3rani con drop zero, ovvero con un'intersola alta 2 cm per tutta la sua lunghezza. Una scarpa quindi che permette al piede di lavorare nella posizione naturale, quindi di avere il grande gioco della caviglia. Una scarpa da 3rani che permette quello che è il natural running, il barefoot running, la corsa naturale, che fornisce grandissima sensibilità del fondo con anche una discreta protezione. Certo, non si può pretendere, se si ha le prime armi, di farci 40 km che poi alla lunga le perturbazioni del fondo che vengono filtrate ma si sentono, possono anche stancare il piede, quindi bisogna vedere qual è la preparazione personale prima di dire affronto un certo tipo di distanza. Una scarpa quindi che dà grande sensazione del fondo ma che è anche comoda, cioè è quasi una pantofola quando si va a stendere il piede sul fondo. È molto piacevole, il fatto che non abbia il rock plate nella zona anteriore, poi la rende così flessibile. Veramente, senti il piede, si appoggia, prende la forma del fondo, ti dà tante di quelle sensazioni ma allo stesso tempo riesce ad essere anche un piacevole. È una scarpa che sul piede è quasi una pantofola da quanto è comoda. Quasi come la MT4, un'altra scarpa di Topatoretic che da questo punto di vista è il massimo della comodità sul piede. Anche questa lo è. È veramente fatta bene, ha il giusto spazio nella zona anteriore, ha ottime, ottime imbottiture e rivestimenti, vedete il contraforte tallonare che è strutturato ma è flessibile, avvolge molto bene la caviglia e insomma tutta la tomaia riesce a vestire il piede in maniera fasciante come un guanto, vedete, ben profilata anche in questa zona interna. Quindi va proprio a fasciare il piede e a darti una sensazione di un tutt'uno con la scarpa. Un tutt'uno con la scarpa che è reso anche dalla presenza di questa, vedete, soletta della Ortolai, come è ben sagomata, anche questa ha una sua morbidezza, ha una sua... oh, è comoda proprio sotto il piede. Dà appunto anche questa un senso di fiedenza quando si va a infilarci il piede dentro. E il sistema di allacciatura è molto efficace, veramente è una tomaia minimalista, ma queste cuciture qui e là, che vanno a creare un po' di rinforza al sistema di allacciatura, che come vedete nella zona mediale scende anche sul piede, quindi va a prenderlo proprio dal fondo e per permettere alla tomaia di andare a fasciare in maniera assoluta al piede e dare sicurezza, sicurezza che serve quando si va anche sui percorsi più tecnici, perché questa è una scarpa, bel full running, ma è una scarpa anche performante da questo punto di vista, ha una suola vibra tipica di tutti i modelli da 3 anni, che fornisce grande, grande frazione, grande sicurezza in tutte le situazioni, e scorrevolezza, una scarpa molto scorrevole, adatta a altri rinni, certo, ma anche a scarpe come il mud race, proprio per la sua capacità di dare a piglio col fondo, grazie a questi tasselli e anche sui fondi più morbidi e bagnati. Insomma, una scarpa che è veramente nella categoria delle scarpe bel full running probabilmente è la migliore da questo punto di vista, comoda e performante allo stesso tempo, quindi ti permette di decidere se andare piano o andare veloce, se andare con calma e viverla in maniera così, wow, kippie, yeah! Oppure di wow, spingi forte, spacca tutto, salta, arrampicati, fai quello che devi fare, hai una scarpa che veramente ti sta al piede come se fosse una seconda pelle, o un secondo piede, diciamo, quindi una scarpa veramente veramente che si può usare in qualsiasi situazione di fondo, di tempo, di qualsiasi situazione mentale con cui si voglia affrontare le proprie uscite, dipendentemente poi la lunghezza da quelle che sono le vostre capacità. Una grande grande scarpa da tre rinni e anche barefoot running, in stile barefoot running, questa dopo avrete il rinventure 4.